Quello tra Mario De Felice e Giuliana De Sio non è un semplice flirt. L'ex corteggiatore è diventato noto grazie all'esperienza Uomini e Donne e ha realizzato davvero il colpo grosso, conquistando una tra le attrici più apprezzate d'Italia. Parliamo di Giuliana De Sio, nuova fidanzata del giovane campano che conferma finalmente la relazione in corso. Nell'intervista rilasciata al settimanale di più, l'ex corteggiatore vuota finalmente il sacco su quella che si preannuncia essere una tra le storie d'amore più commentare degli ultimi tempi. Ho cominciato a frequentare Giuliana circa tre mesi e mezzo fa e posso dire finalmente di aver raggiunto l'equilibrio che cercavo nella vita. Stiamo vivendo un rapporto straordinario, lei è una donna eccezionale ma non voglio passare per quello che la frequenta per interesse. Nella vita privata, Giuliana e io siamo una cosa sola ma, una volta usciti di casa, le nostre strade si separano anche se pure io, pian piano, mi sto ritagliando il mio spazio nel mondo del cinema. Non voglio parlare del mio passato ma l'esperienza a uomini e donne mi ha fatto capire che dovevo cercare il mio percorso in un'altra direzione. Dovevo studiare per diventare un attore. Ho incontrato Giuliana un anno fa ma la passione è sbocciata dopo. Mario, che è stato suo malgrado soprannominato il tronista Toy Boy, racconta con piacere le circostanze entro le quali è avvenuto il suo primo incontro con la De Sio. La loro storia, del resto, non è più un mistero tanto che è la stessa attrice a pubblicare foto del suo nuovo fidanzato sui social network. Ho conosciuto Giuliana circa un anno fa. Era una delle insegnanti di recitazione nello stage teatrale che stavo frequentando. La scintilla, però, è scoccata solo tre mesi e mezzo fa quando ci siamo rivisti per un evento. In quel frangente, tra noi è scoccato qualcosa. Con lei faccio sul serio, come peraltro per tutto il resto. Il mio lavoro di attore mi sta dando grosse soddisfazioni, c'è in ballo una cosa grossa per il cinema e non nego che mi piacerebbe andare a Hollywood per prendere parte a un thriller. Sto studiando parecchio per poter sfondare oltreoceano ma, si sa, è dura. In questo mi aiuta Giuliana, è la mia maestra, da lei sto raccogliendo preziosi consigli. Ha le idee chiare Mario, in amore come nel lavoro. E chissà che tutto questo impegno non riesca a condurlo finalmente laddove aveva sempre sognato di arrivare. Chi se ne frega.